Le competenze relazionali. Ora, che senso ha un libro digitale senza la multimedialità? Ora, la scelta è che l'implementazione della multimedialità richiede professionalità. Questo ce ne rendiamo conto se analizziamo certi prodotti che sono accessibili, in rete, autoprodotti, testi autoprodotti, oggetti self-publishing in cui la multimedialità ragazza un problema di visibilità, di correttezza, di utilizzabilità e anche dal punto di vista legale perché non è vero che in internet si può fare tutto quello che si vuole.